Nulla da fare per l'indecco FP Giovinazzo impegnata a Valdagno. Nella 23esima giornata del campionato di Serie 1 di Occhi su pista, i biancoverdi hanno ceduto 8 a 1 alla squadra detentrice di campionato e Coppa Italia. La gara si è di fatto chiusa in meno di 10 minuti, quelli occorsi alla squadra di Vanzo, per portarsi sul 4 a 0. Dopo 61 secondi Platero ha sbloccato il risultato, mentre allo scadere del quarto minuto ha raddoppiato Bomber Tataranni. I vicentini hanno continuato a spingere, realizzando altre due reti in meno di 90 secondi, con Nicolia e Nicoletti, ad arrotondare il risultato sino al 5 a 0 dell'intervallo, un nuovo acuto di Platero. Nella ripresa, a FP subito in gol con un guizzo di Bertran, prima di un nuovo allungo dei padroni di casa. Sesta rete di Nicolia, settima e ottava di Tataranni, con risultato acquisito già a 14 minuti dalla sirena. Nelle file dei biancoverdi, ancora orfani del cileno Fernandez, da segnalare l'esordio del portiere Tommaso Belgiovine, giovinazzese doc. In classifica, intanto, l'ultimo posto utile per i play-off, l'ottavo e ora tre lunghezze, complice la vittoria del Prato sul Trissino. Nelle ultime tre gare della stagione regolare risulteranno decisivi gli scontri diretti con Sarzana e Lodi, oltre che con i toscani. Il tutto in attesa della pronuncia della Commissione d'Appello federale sul ricorso presentato per presunto errore tecnico nella gara contro il Trissino, che in caso di ripetizione potrebbe offrire a De Palme e compagni una possibilità ulteriore per rimettersi in carreggiata.